questo dibattito, credo che noi oggi possiamo autenticamente tentare di celebrare l'unità nazionale. Perché vedete, l'unità non è annullare la contrapposizione. La contrapposizione ha un ruolo positivo, addirittura un ruolo educativo per qualsiasi comunità. L'unità è un'altra cosa. L'unità è l'interesse superiore. L'unità è il comune destino che dà un senso alla contrapposizione. Io voglio credere che tutti noi, indipendentemente dalla visione del mondo della quale siamo portatori, se il nostro cuore è sincero, noi lavoriamo tutti, secondo le nostre differenti condizioni, con lo stesso obiettivo, che è il bene della nostra nazione. E allora, se lo spirito è questo, il confronto è necessario, è fondamentale, è inevitabile, è utile. Lo voglio dire con le parole di Argentina Altobelli. Figlia del risorgimento, madre della CGL. Donna, diciamo, anticonformista per il suo modo non di apparire come spesso accade oggi, ma per il suo modo di essere. Diceva, la mia vita di donna politica è stata guidata dall'amore verso l'umanità, da un orientamento sincero e profondo del pensiero della coscienza. Se questo è l'approccio, ci sono ottime ragioni per confrontarsi con la schiettezza, con la forza delle idee che ciascuno di noi ha e rivendica legittimamente. Detto questo, ho letto la relazione del segretario Landini. A Monte ho da dire due cose, i complimenti soprattutto per la resistenza, anche la tempra, diciamo così, di polmoni e di corde vocali. Il segretario Landini mi confessava di aver parlato per oltre due ore senza neanche bere un bicchiere d'acqua. Io non sarei stata in grado. La seconda cosa che ho da dire è che sono contenta di leggere della relazione che la CGL non è un sindacato di opposizione perché verrebbe da dire, figuriamoci se lo fosse, nel senso che in oltre due ore di relazione non ho praticamente trovato nulla di quello che il Governo ha fatto finora su su cui la CGL sia d'accordo, salvo un riferimento al patto per la terza età. Ora, ovviamente io non mi permetterò da ospite di parlare due ore in questa manifestazione, quindi non ho il tempo per controbattere alle molte tesi che ovviamente non condivido e cercherò di concentrare...